Che i pittori sentano di esprimersi ad un alto livello d'arte, parlando della politica con rispetto e amminazione, è una luce di speranza in questo paese. I pittori come gli artisti vedono più della gente comune e vedono prima della gente comune. I grandi artisti abbiano sentito di poter omaggiare o sequiare un esponente politico di questo livello, comunque un esponente politico che ha fatto essenzialmente attività politica, che si è dedicato all'interesse del paese. E' un elemento di speranza. Noi dobbiamo sperare che tutta l'Italia, tutta la nostra società esca da una fase che per colpa della politica si è separata dalla politica stessa, per arrivare a uno sforzo comune perché noi possiamo crescere nel mondo. Grazie.